Buongiorno a tutte voi, a tutti voi, buongiorno a tutte le autorità presenti e ben arrivati a questa giornata di lavoro. Uno dei nostri relatori l'ha chiamata una sorta di brainstorming sui diritti umani e le pari opportunità, con focus i minori che vivono o incontrano i genitori in carcere. È una giornata importante perché vede insieme, e insieme la parola che ci piace per questo evento in rete, con il Soroptimist International d'Italia, che abbiamo la nostra Presidente nazionale, Leila Picco, qui seduta in prima fila, che poi ascolteremo negli interventi di chiusura. Il mio saluto anche da parte del Comitato Pari Opportunità del Soroptimist International e modererò questo incontro insieme all'Avvocato Rebecca Rigon, che è responsabile nazionale dell'Unione Nazionale Camere Minorili. Benvenuti perché è un evento in collaborazione, Soroptimist Unione Camere Minorili, con la Commissione dei Diritti Umani del Senato. E quindi è anche una collaborazione, quella che iniziamo oggi, per noi importantissima. Ed è un evento anche patrocinato dal Senato della Repubblica. Quindi io darei subito la parola, e poi i nostri relatori e relattrici avremo l'occasione di conoscerli durante questa mattinata, al Presidente della Commissione, che è il Presidente Manconi, ringraziandolo di questa opportunità di essere in questo luogo. Facciamo aprire i lavori subito a loro, perché sappiamo che poi hanno dei lavori in corso al Senato, le votazioni, e un grazie, perché sappiamo che essere qui oggi non è stato facile, per anche problemi di sicurezza. Abbiamo degli ospiti collegati con una sala sopra, che ci stanno seguendo, e poi alla fine comunque avremo modo anche con loro di incontrarli, chiudendo prima i lavori e facendo spostare i nostri relatori e relattrici sopra. Quindi benvenute con un applauso, direi, a tutte. A tutti. E Presidente Manconi, grazie a lei l'apertura di questi lavori. Prego. Grazie.